Gianni, che cosa hai deciso? Ma ci devo pensare, adesso devo decidere che cosa devo fare. State tranquillo su Eminenza, che io il mio regno lo darò al migliore, perché ci sto pensando. Gianni, però qui su Eminenza è venuto, è vero che starà qui una settimana perché ha anche altri impegni a Roma, però non è che puoi tirarla pelle lunghe, entro una settimana devi dare la tua risposta. Eminenza, la rignaccio che lei è venuta dall'America per me, cercherò di accontentare, cercherò di fare il mio possibile, altrimenti io lo darò al mio regno, lo darò al migliore che si candida. Ecco qua.